Difficile è fare i piani quest'anno per quanto riguarda le vacanze. Il maltempo sta dettando la scaletta a tutti e se a questo fattore si unisce quello della crisi il gioco è fatto. Un gioco che viene quantificato dai dati di Federalberghi che parla di cali di presenze sulle spiagge italiane fino al 70%. Dovesse chiudersi oggi anche l'Alto Adige non si salverebbe, ma ciò che ci interessa capire ora è se gli altoatesini andranno o sono andati in ferie quest'anno. In vacanza sono stata in Puglia, il tempo è variabile, non come qua però variabile, ma ci sta bene lo stesso qua, non c'è problema. Quest'anno io sono stato in ferie in Grecia perché qua il tempo lasciava desiderare, per trovare il sole sono dovuto volare via da qualche parte. Le agenzie di viaggi lamentano un bel po' di crisi indipendentemente dal maltempo, ciò nonostante è possibile stilare una sorta di graduatoria delle mete preferite. In quest'estate naturalmente tutto il Mediterraneo va abbastanza bene, eccetto chiaramente le zone tipo Siria, Israele, anche la Libia è chiusa, l'Algeria, tutti questi paesi non sono interessanti, però soprattutto la Grecia, la Spagna, la Turchia e chiaramente anche l'Italia, tipo la Sardegna, vanno benissimo. Ovviamente la crisi ma anche l'incertezza legata al meteo spinge tutti ad aspettare fino all'ultimo nella progettazione e presentazione delle vacanze. Con i last minute si può risparmiare tra il 10 e il 35% della tariffa base, basta accontentarsi ed essere flessibili e volendo si può prenotare proprio all'ultimo momento o quasi. Naturalmente non tutti i tour operator sono in grado di fare o di confermare tutto in una giornata, però in due o tre giorni è possibile. Comunque vediamo sempre o sempre di più che naturalmente la gente si informa in internet e poi torna comunque in agenzia a prenotare, perché tanto trovano gli stessi viaggi e le stesse condizioni anche da noi. Grazie.